Annalisa Di Stefano, candidata alle prossime regionali, ieri sera quasi finalmente questa chiusura di campagna elettorale, sono state settimane molto intense, come è andata? E' andata molto bene, per me è un risultato inaspettato, erano presenti circa 700 persone, la mia prima campagna elettorale, la mia prima candidatura, quindi è stata un'emozione molto forte, il riscontro della gente, l'apprezzamento della mia trasparenza, correttezza e quindi questo è un qualcosa che per me è già un risultato. E poi c'è stato l'intervento telefonico di Brunetta. Beh sì, lui non ha potuto partecipare perché era atteso da Tgcom24, ieri è stata una giornata molto impegnativa, soprattutto per lui che sappiamo essere effettivamente la voce più adorevole dell'opposizione al governo. Infatti ieri ha bacchettato Tria, c'è stato il commento sulla questione del ritiro dell'ambasciatore di Francia e lui è il pilastro dell'opposizione ed è colui che tecnicamente effettivamente evidenzia tutti i nostri problemi come il rischio di recessione economica, che sarebbe un fatto gravissimo perché poi porterebbe anche a disagio sociale, a disordini sociali. Però è voluto essere presente, quindi abbiamo avuto un appuntamento telefonico alle ore 21, è intervenuto, ci ha fatto il panorama del quadro nazionale e ha sottolineato come queste elezioni regionali dove il centrodestra corre unito, dove la Lega è con Forza Italia, i Fratelli d'Italia e non con il Movimento 5 Stelle, è in realtà un test e la vittoria del centrodestra darà la prova a livello nazionale del sodalizio vincente del centrodestra unito. Volendo fare un bilancio, anche avendo ascoltato le istanze dei cittadini, cosa chiedono maggiormente e soprattutto perché dovrebbero votare Forza Italia e Annalisa Di Stefano? Chiedono risposte ai problemi, alle questioni oramai aperte da tanto tempo grazie alla giunta d'Alfonso e dovrebbero votare me perché ho dato prova in Assessorato della Comune di fare, di adoperarmi fattivamente e concretamente per la risoluzione dei problemi. Sembro abbastanza convincente dall'apprezzamento della gente, però al di là delle battute, quello che io posso garantire alle persone è che farò in Regione, se dovessi andare, così come ho fatto in Comune. E quindi questa è una garanzia.